Buon insegna Buon insegna Ancora Buon insegna, tiro Prete, Buon insegna Buon insegna ha segnato Uno splendido tiro di Buon insegna Di sinistro, dal limite dell'area Buon insegna, ottavo minuto 13 novembre 1943 Nasce Roberto Buon insegna Attaccante del Cagliari, dell'Inter E della Juventus Per due stagioni consecutive Nel 1971 E nel 1972 Buonimba è capo cannoniere Del campionato Nella finale della Coppa Rimè Italia-Brasile A Città del Messico nel 1970 Il suo gol del pareggio Ci illude per tutto il primo tempo Poi sarà goleada brasiliana Finirà 4 a 1 Ho iniziato a giocare Tanti anni fa In una squadra di parrocchia Nella mia città Mantua E poi un osservatore dell'Inter Mi ha visto giocare Sono andato a provare Nei ragazzi dell'Inter Appunto Sono stato preso E da lì ho cominciato La mia carriera Questo è stato preso Il primo tempo E la mia carriera È stato preso Il primo tempo La mia carriera Il primo tempo E la mia carriera